Scappa, scappa, salvo 5.0 Scappa, 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 salvo 5.0 Scappa, scappa, scappa la diretta con Samo Mandara Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti Siete collegati in diretta con salvo 5.0.tv Chi vi parla è Salvo Mandara e questo qui è il mi scappa la diretta di oggi che è mercoledì 8 aprile 2015 e sono in questo momento le ore 12 e 16 minuti Beh, prima di tutto, vabbè, per chi è un attento osservatore ha notato che sto usando questo microfono, il vecchio microfono da studio anziché il collarino è solamente per motivi tecnici perché qui oggi stanno facendo dei lavori, non proprio qui dentro a casa mia, fuori stanno facendo dei lavori, c'è un rumore di fondo pazzesco e allora questo microfono da studio è molto più direttivo quindi non riceve, almeno spero che non riceva, tutti i rumori che vengono da fuori mentre il collarino invece è molto più, diciamo, ha un diagramma molto più ampio prende qualunque rumore tutto intorno quindi solo per questo ma da domani torneremo col collarino che sicuramente è più comodo è meno invasivo, ecco, della scena va bene, allora cari amici innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi perché ieri con tutti i commenti, il vostro affetto che avete dimostrato come sempre durante l'intervista chiacchierata con Silvestro Montanaro mi avete veramente scaldato il cuore mi avete fatto capire che la strada è intrapresa mi avete fatto capire, mi avete confermato una volta di più che la strada è intrapresa è quella giusta che quando si riesce ad avere degli ospiti eccezionali come quello di ieri appunto con Silvestro Montanaro diciamo che la cosa viene molto apprezzata quindi veramente grazie a voi tutti per il numero enorme di commenti per il calore che mi avete testimoniato per tutta la stima, l'affetto che avete testimoniato a me e soprattutto al mio gratitissimo ospite Silvestro Montanaro quindi veramente grazie a tutti voi beh, oggi vorrei parlarvi di un paio di cose di un paio di cose allora cominciamo da questa praticamente io ieri ho fatto una chiacchierata con una persona che non conoscevo prima e che presto, spero, potrete vedere qui su Salvo 5.0 come, diciamo, ospite intervistato sto parlando di Alfredo aspettate un minuto aspettate un minuto che le amici che mi documento perché voi lo sapete che io con i nomi faccio sempre queste figure ma perché non mi preparo prima? eccolo qui con Alfredo Belluco Alfredo Belluco lui praticamente ha una associazione con la quale si occupa proprio di combattere contro le banche un po' come facciamo noi anche se noi lo facciamo solo dal punto di vista dell'informazione loro proprio lo fanno in modo attivo con delle denunce hanno dei periti che fanno delle perizie quindi, ecco, qualcosa di veramente molto più organizzato e soprattutto lo fanno da lunga data ecco, Alfredo Belluco adesso, scusate, io lo cerco su Facebook e così vi dico qualche notizia in più su di lui e sull'associazione che lui dirige eccolo qui l'associazione di Alfredo Belluco è Confeder Contribuenti Veneto Confeder Contribuenti Veneto e lui è il, credo che sia il vicepresidente vicepresidente nazionale ecco quindi e lui si occupa appunto di lottare contro le banche criminali da tanto tempo veramente da, credo, da una quindicina d'anni e quindi ecco, una persona da seguire io non la conoscevo prima l'ho conosciuto ieri è stato un piacere e appunto Alfredo mi ha segnalato questa notizia che non è proprio freschissima perché è di giugno 2013 quindi stiamo parlando ormai di due anni fa praticamente però è una notizia diciamo che fa capire veramente quanto quanto siano criminali le banche e quanto siano criminali certi avvocati e purtroppo ignoranti certi giudici allora vi faccio vedere questa storia eccola qui questa qui è la storia che riguarda un signore veneto che adesso appena lo trovo vi dico anche il suo nome eccolo qui signor Remigio Tuppini ecco potete anche fare delle ricerche e potete fare delle ricerche in in rete se cercate Unicredit Remigio Tuppini troverete vari dettagli sulla storia di questo signore uno degli articoli appunto questo qui di Libero Reporter Daring to be different cioè osando di essere differenti ecco questo è il titolo di questo di questa pubblicazione e appunto il primo giugno del 2013 ha pubblicato quest'articolo dal titolo esclusiva che scandalo Unicredit sottrae cifre da paura al correntista e occulta i ricalcoli ecco le prove praticamente questo signore questo signor Tuppini aveva capito che c'era qualcosa che non andava nella gestione del suo conto aveva fatto delle ha fatto una causa alla banca la causa si è completata con un nulla di fatto perché diciamo che la banca non ha riconosciuto ecco tutte le cose denunciate dal malcapitato signor Tuppini lui aveva chiesto appunto di fare dei conteggi sugli interessi e su tutta una serie di spese che la banca aveva debitato sul suo conto bene ve la faccio breve la morale della favola qual è? la morale della favola è che dopo anni in cui non succedeva niente il signor Tuppini evidentemente si è reso conto che l'avvocato che lo stava seguendo era un delinquente così come la banca unicredit in questione che è quella di San Martino Buonalbergo ecco sono stati dei veri delinquenti lestofanti criminali ecco lo diciamo senza tema di smentite ecco quindi questo signor Tuppini praticamente è andato dal suo avvocato e ha detto io voglio ritirare tutte le pratiche che riguardano questa cosa qua perché voglio cambiare strada allora l'avvocato ha preso il fascicolo e gli ha dato tutto quanto bene con somma sorpresa il signor Tuppini arrivando a casa ha notato che l'incauto avvocato all'interno del fascicolo aveva messo anche alcune lettere che si erano scambiate la banca o meglio il legale della banca unicredit con lui legale della parte lesa e in queste lettere c'era anche proprio una lettera interna da una sede della banca a un'altra sede della banca dove c'era scritto nero su bianco che dai riconteggi risultava che la banca aveva rubato 190 mi pare milioni di lire quindi circa 100 mila euro di oggi più o meno ecco vabbè questa è ordinare amministrazione voi lo sapete che unicredit ruba addirittura 500 miliardi all'anno altro che però questa è una storia che riguarda un cittadino specifico e ci sono delle lettere della stessa banca unicredit che certificano da riconteggi che loro stessi hanno effettuato che avevano rubato ok proprio rubato questa è la parola giusta non è che sono sinonimi da poter usare rubato bene il signor Tuppini si è rivolto di nuovo alla magistratura ma la magistratura ha detto che i documenti che lui ha prodotto erano ormai tardivi e se ne è sbattuta le palle del fatto che lui aveva avuto questi documenti in modo tardivo semplicemente perché l'avvocato che seguiva il signor Tuppini delinquente pure lui l'avvocato dico non il signor Tuppini praticamente aveva occultato queste lettere tenendole nascoste praticamente come corrispondenza privata fra lui e la banca quindi facendo di fatto perdere le opportunità al signor Tuppini di vincere una causa contro la banca quindi questo magistrato diciamo è stato come minimo frettoloso direi nell'esprimere un giudizio e nel non consentire la possibilità di utilizzare questi documenti a carico della banca e a favore di questo povero signore che si è visto praticamente derubato da parte di banca Unicredit esattamente lo sportello di San Martino Buonalbergo in provincia di Verona bene e allora qual è la lezione di questa cosa è chiaro che questa qua è solamente una piccola punta di un iceberg del più grosso perché la banca Unicredit ha rubato a questo signore circa 100.000 euro ma questi ladrocini ovviamente vengono ripetuti per migliaia e migliaia di correntisti quindi voi provate a immaginare quanti soldi vengono rubati e questi sono soldi proprio rubati certificati proprio dai bilanci addirittura in questo caso con una lettera che la banca ha mandato a se stessa da un ufficio all'altro quindi provate a immaginare di che cosa stiamo parlando ma non è difficile capire questa cosa sapendo noi che lo sappiamo che la banca Unicredit ruba 500 miliardi di euro all'anno sotto forma di falso in bilancio false scritture contabili perché occulta il reddito derivante dalla creazione di denaro dal nulla 500 miliardi la banca Unicredit ruba ogni anno ogni anno quindi questo è solamente la punta di un iceberg però è una punta di un iceberg ben visibile ben documentata ci sono documenti della stessa banca in cui la banca scrive dall'ufficio periferico all'ufficio centrale ammettendo di aver rubato 100 mila euro a un singolo cittadino voi immaginate voi capite la pesantezza di questa cosa bene però di queste cose diciamo che si parla poco anzi non se ne parla per niente e vabbè e allora questo è l'argomento di cui volevo parlarvi a questo punto vorrei partendo da questo andare un po' oltre e allora apro per esempio il fatto quotidiano che è uno dei pochi giornali che ogni tanto guardo e però sono a limito perché vedete quando tu apri un giornale no e leggi questi titoli frodi per 1,5 miliardi su finanziamenti pubblici appalti per 4,8 miliardi per un terzo irregolari i dati 2014 delle fiamme gialle scovati 8 mila evasori totali 3700 denunciati per reati contro la pubblica amministrazione segnalati a corte dei conti sprechi per 2,6 miliardi mafie sottratti beni per 4 miliardi allora io leggo un titolo del genere e dico ma questi sono scemi o ci fanno cioè sprecare questa carta vabbè questa non è in carta è fatto in modo elettronico per fare una prima pagina in cui parlano di queste frodi eccetera quando c'è la frode di 2100 miliardi ogni anno operata dalle banche e di questo non parla nessun giornale nessuno nessun giornale parla di queste cose parla dei 2100 miliardi che vengono frodati tutti gli anni dalle banche e parlano di queste cazzate no? finanziamenti pubblici frodi per 1,5 miliardi ma che cosa ce ne frega a noi di parlare di queste briciole quando ci sono cose ben più grosse capite perché veramente è assolutamente di primaria importanza il fatto che partiamo con la nostra campagna adotta una banca denunciandola cari amici io ho il video in cantiere ci stiamo lavorando ci sono dei ritardi per tutta una serie di cose anche problemi personali della persona che si sta lavorando ma il video è in cantiere e quando uscirò vi prego fin da ora aiutatemi a farlo diventare virale sarà un video che durerà probabilmente un minuto un minuto e venti secondi qualcosa del genere ma che sarà una vera bomba dovete aiutarmi a far deflagrare questa bomba informatica non violenta naturalmente più possibile perché dobbiamo arrivare a lanciare la nostra campagna adotta una banca denunciandola dobbiamo denunciare la banca dobbiamo permettere a tutte le banche di rientrare nella legalità e per far questo dobbiamo denunciarle non c'è altro mezzo dobbiamo denunciare dobbiamo fare miliardi no scusate sono troppi miliardi milioni migliaia mi accontento anche di migliaia migliaia di denunce migliaia di denunce dobbiamo denunciare tutti noi dobbiamo denunciare le banche perché le banche i consigli di amministrazione gli amministratori delegati della maggior parte delle banche non voglio dire tutte diciamo la maggior parte quasi tutte sono dei criminali sono dei criminali che vanno denunciati penalmente quindi dobbiamo denunciare queste banche per far capire ai magistrati che siamo al loro fianco che devono avere le palle di rimandare di rinviare a giudizio questa gente e poi dare delle pene alternative io non voglio vedere nessuno in galera voglio solo che le banche comincino a fare i bilanci in modo corretto smettano di evadere il 100% delle tasse legate al reddito che loro hanno dalla creazione di denaro dal nulla quindi dobbiamo fare in modo che questi criminali inizino a pagare magari il 27% di tasse sarebbero bei 6-700 miliardi con i quali a voi a fare il reddito di cittadinanza incondizionato reddito di cittadinanza incondizionato non il reddito giocattolo quello lì che se poi rifiuti per tre volte un lavoro perdi il reddito di cittadinanza no 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 tutti devono avere un reddito minimo garantito per il solo fatto di essere nati e residenti in questo pianeta tutti quanti poi chi vuole può anche fare un lavoro per fare qualcosa di più qualcosa di creativo ma il lavoro deve essere un modo per realizzarsi non un modo per sfamarsi ecco non bisogna lavorare per sfamarsi bisogna lavorare per fare qualcosa di creativo qualcosa che ci piace solo così potremmo vedere un rinascimento culturale potremmo uscire da questo schifo in cui siamo ridotti ormai da troppi decenni da troppi decenni peggio di così è impossibile ormai ma tutto passa da lì dalla denuncia dei criminali che ci schiavizzano perché noi siamo tutti degli schiavi siamo 60 milioni di schiavi costretti a lavorare per vivere costretti a lavorare per vivere basta non è più l'era del lavoro il lavoro è una cosa vecchia stantia obsoleta dobbiamo assolutamente disfarci di questo stupido concetto del lavoro per vivere non dobbiamo assolutamente lavorare per vivere dobbiamo essere felici per vivere dobbiamo avere un reddito questo è il concetto lo so che alcuni pensano che questo è un discorso da fancazzista lo so e io godo quando qualcuno mi dice fancazzista per queste cose questa persona magari fra 5 o 10 anni riuscirà a comprendere questo concetto se oggi pensa che questo sia un discorso da fancazzista vuol dire che è ancora troppo presto per lui o per lei ma arriverà il momento per tutti di capire questo concetto e noi abbiamo il dovere di fare in modo che tutti piano piano comincino a comprendere questo concetto a rifletterci su a pensarci anch'io quando la prima volta il mio amico donato un mio amico donato che abita in Svizzera mi ha parlato del reddito di cittadinanza incondizionato ho detto vabbè questo è matto poi ci ho pensato ho approfondito ho visto dei video anche di Silvano Agosti e di altri ho detto porca puttana questi hanno ragione reddito incondizionato questa è la parola d'ordine ma parte prima dalla denuncia dei criminali che ci schiavizzano le banche sono l'arma che usa l'elite per renderci schiavi affinché noi possiamo pensare al lavoro per sfamarci e non abbiamo il tempo per pensare alla nostra realizzazione perché altrimenti capiremmo il gioco quindi parafrasando la frase del signor Ford che nei primi del novecento disse se il popolo capisse come funziona il sistema monetario ci sarebbe una rivoluzione prima di domani mattina ecco parafrasando questa frase io dico se tutti noi ci rendiamo conto di come funzionano le banche potremmo partire con una campagna di denunce prima di domani mattina partiamo con le denunce partiamo con le denunce io vi aiuterò con questo video che spero diventi virale nel giro di una settimana o due in modo veramente da arrivare a migliaia e migliaia di denunce nel frattempo permettetemi permettetemi di lanciare un appello a tutti coloro che ancora si ostinano a guardare la televisione oggi mentre mi recavo a Milano in treno leggevo su facebook e leggevo che c'era qualcuno che si lamentava per la conduzione delle trasmissioni che ci sono il martedì Ballarò su Rai 3 e di martedì sulla 7 ah ma che schifo invitano gli esponenti del movimento 5 stelle e poi li fanno parlare molto meno io non so chi fossero gli ospiti ieri quanto tempo hanno parlato di che cosa hanno parlato voi lo sapete non mi interessa la televisione e soprattutto non mi interessa quello che i politici vanno in televisione a dire proprio non mi interessa minimamente la televisione è spenta da mesi a casa mia a casa mia io ieri mentre cenavo preparandomi all'intervista con Silvestro Montanaro mi sono guardato on demand l'ho scelto io mi sono guardato un video di Silvestro Montanaro che si intitola con la neve sopra il cuore o il cuore coperto di neve qualcosa del genere comunque cercatelo su youtube fantastico meraviglioso poetico anche se come un pugno sullo stomaco per gli argomenti che tratta quindi io guardo solo video on demand e mi riscelgo da solo la televisione per me se ne può andare a fanculo e allora dico ai miei amici grillini o comunque quelli vicini al Movimento 5 Stelle che ancora si lamentano perché trattano male gli esponenti del Movimento 5 Stelle in televisione dico ma non avete ancora capito che andando in televisione a queste condizioni non si fa altro che fa parte del sistema cioè mi dispiace dirlo ma i parlamentari del Movimento 5 Stelle che vanno in televisione a parlare dei solidi temi di che cosa hanno parlato di mafia capitale di Expo del TAV oppure hanno parlato di altri ladrocini di qualche milione di euro di qualche centinaia di milioni di euro cioè briciole è inutile andare in televisione a parlare di queste cazzate fra l'altro avendo anche meno tempo perché lo sapete il sistema ha deciso che l'alter ego di Matteo Renzi deve essere Matteo Salvini il sistema ha deciso che ci deve essere Matteo Renzi Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle a fare da terzo incomodo e questo è il modo con cui i media presentano il Movimento 5 Stelle quindi il Movimento 5 Stelle va in televisione e viene presentato come il terzo incomodo e quindi lo usano per far incazzare la gente in modo che la gente continuando a votare Movimento 5 Stelle è convinta di fare la vera lotta dura contro il sistema e invece no vengono solamente usati perché praticamente c'è la solita regola del 33 33 33 attenzione non sto dicendo che il management del Movimento 5 Stelle faccia parte del gioco in modo consapevole forse sì forse no non lo so non ho le prove non posso dirlo però sicuramente l'effetto l'effetto finale per il sistema è esattamente quello non importa se con o senza la complicità dei vertici del Movimento ma il fatto finale è che la politica è divisa a parte che ci sono tutti quelli che non votiamo poi c'è chi vota PD chi vota Lega e chi vota Movimento 5 Stelle tutti contenti perché ognuno combatte per il suo fronte quelli che votano Movimento 5 Stelle ah maledetti non fanno parlare i nostri esponenti in televisione stronzi eccetera eccetera e non capiscono che così stanno facendo parte del gioco come il criceto nella ruota basterebbe invece spegnere quella cazzo di televisione cercarsi le informazioni in rete e soprattutto denunciare le banche denunciare le banche o impegnarsi nel sociale impegnarsi contro i maiali italiani che vanno in Brasile con le prostitute di undici anni in Brasile come in Thailandia come in Cambogia e in tanti altri posti del mondo cioè ci sono tanti modi per impegnarsi per fare qualcosa di utile anziché guardare la televisione è possibile che non si capisca questo concetto però la gente invece continua a lamentarsi maledetto Floris maledetto Giannini che ha dato solo dieci minuti al grillino mentre la Meloni Salvini e gli altri hanno avuto molto più tempo e voi ancora lì a farvi schiavizzare e a far parte del gioco come dei cricetini nella vostra ruotina che vi incazzate come facevo anch'io fino a due anni fa perché il Movimento 5 Stelle aveva poco spazio in tv ma fanculo la tv fanculo la tv il Movimento 5 Stelle se vuole fare qualcosa di utile deve andarsene nelle piazze deve parlare con la gente e soprattutto deve denunciare le banche deve denunciare le banche per il grandissimo falso in bilancio di 2.100 miliardi ogni anno questo deve fare il Movimento 5 Stelle se vuole fare qualcosa di veramente utile se andrà ancora in dv a parlare di mafia capitale o di queste altre cazzate farà parte del sistema consapevolmente inconsapevolmente non me ne frega un cazzo non me lo chiedete o non ditemi salvo ma tu veramente credi che siano in buona fede non me ne frega un cazzo di scoprirlo non me ne frega un cazzo di saperlo perché tanto quello che conta è il risultato che siano consapevoli o no che cosa cambia? quello che conta è che fanno parte del sistema sono stati fagocitati dal sistema 33 33 33 Renzi Salvini Grillo basta il sistema vuole questo poi che Grillo e Casaleggio siano d'accordo o no vi rendete conto che non fa nessuna differenza e non mi interessa neanche scoprirlo non lo voglio sapere non me ne frega non me ne frega un cazzo di saperlo so solo che fanno parte del sistema loro malgrado probabilmente ma se fosse loro malgrado sarebbe ancora peggio perché dico cazzo svegliatevi andate fuori andate nei marciapiedi andate nelle piazze andate a incontrare la gente a parlare di queste cose questo è quello che dovrebbero fare porcaccia della miseria e invece cosa fanno 33 33 33 Salvini Renzi Grillo basta mi sono sfogato adesso vado a leggere qualcuno dei vostri commenti e poi vi saluto vediamo se ci sono i vostri commenti sì caspita ce ne sono 19 addirittura ma nelle piazze non ci sono tutti la maggior parte degli elettori anziani stanno a casa davanti alla tv e allora dobbiamo andare nelle case e allora andiamo nelle case andiamo dove fanno la spesa andiamo nei supermercati andiamo nelle feste di paese e nelle sagre insomma la tv deve morire dobbiamo aiutarla a morire dobbiamo applicare l'eutanasia alla tv caro T A L 7 7 S V AD che poi il giorno che capisco che vuol dire mi farà piacere allora poi molobello qual è il movente del movimento per lasciare il sistema così com'è e non lo so molobello questo lo devi chiedere al movimento non a me già tu parli di movente vuol dire che stai dando per scontato che siano consapevoli probabilmente non si rendono conto di essere in questo giochino denunciano salvo il sistema lo buttiamo giù ma ci vuole del tempo se non vogliamo invasioni pericolose e bullismi vari dagli USA io credo la mia lotta è più importante della tua neanche all'asilo non l'ho capita questa e se creassimo noi una rete di cittadini liberi di buona volontà una banca clandestina ecco questa mi sembra una buona idea non saprei come implementarla però fallo fallo e io ti supporto caro molobello Fulvio Oscar come diceva Uriti evadono il 200% ed il potere che hanno non è sufficiente vogliono controllare i popoli decidendo chi far vivere o morire basta basta vero salvo e sì caro Fulvio Oscar sono d'accordo con te il lavoro trasformazione dell'energia nobilita l'uomo la schiavitù no ma non è il lavoro che nobilita l'uomo è il reddito che nobilita l'uomo è la possibilità di esprimersi arte cultura amore filosofia ingegno non il lavoro che nobiltà ha un operaio che stringe dei bulloni o un operaio di una di una di una catena di produzione che fa quello che dice il padrone non non credo che abbia nulla di nobile un operaio attenzione massimo rispetto per gli operai che vanno lì e si guadagnano da vivere però dico sono sicuro che nessuno di quegli operai andrebbe a fare l'operaio se avesse un reddito di cittadinanza pari al suo stipendio cioè se oggi l'operaio potesse decidere di andare a fare l'operaio oppure di mettersi a dipingere a scrivere dei libri zappare la terra per farsi quello che mangia eccetera cosa sceglierebbe? non credo che andrebbe a fare l'operaio il lavoro nobilita l'uomo quando chi lo fa lo farebbe anche gratis allora tu fai il tranviere e ti prendi lo stipendio lo fai perché ti piace saresti disposto a farlo anche gratis allora in quel caso è un lavoro che ti nobilita se invece lo fai solamente perché vuoi giustamente che ti paghino un salario per poterti comprare da mangiare a questo punto quel lavoro non ti ha reso nobile ti ha reso schiavo questa è la mia opinione Pietro Tris Tris ma com'è che si pronuncia? Trisciuoio dice salvo la magistratura è un secchio bucato sono abbastanza d'accordo secondo me tutte le lotti sono importanti ognuno fa quello che può io per esempio non ho nessun conto corrente bancario sicché e questo ti fa onore caro Molobello bravo spero anch'io di potermi adeguare di poter fare quello che fai tu molto presto salvo non c'eri doveva salvo se vabbè manca un se se non c'eri dovevamo inventarti bravo ti faccio i miei complimenti le vere notizie le ascoltiamo da te ti vogliamo grande per tutti io ti ringrazio caro Fulvio non lo so io sono sono già molto felice di quello che riesco a fare e di tutto l'amore che voi mi trasmettete ogni giorno compreso tu con questo tuo commento magari pure Elia Menta Nino Galloni interviste singole però come sempre oppure un bel dibattito su un tema economico o sociale tipo come dovrebbe essere la scuola quella vera e magari pure l'università sono d'accordo Pietro ti ringrazio per questo suggerimento intervista anche Mauro Scardovelli e poi Silvana Agosti Mauro Scardovelli non lo conosco Silvana Agosti lo conosco sarei felicissimo di intervistarlo ma purtroppo non ho il contatto non sono riuscito a procurarmelo ho un amico che ha il suo contatto ma mi ha detto che preferisce non darmelo e quindi io ho detto ma tu chiedilo a Silvano se magari è disposto e lui niente alla fine niente non ho il contatto se qualcuno riesce a mettermi in contatto con Silvana Agosti gliene sono grato Salvo perché non intervisti Paolo Barnard sembra sparito e ci manca un giornalista con gli attributi come lui caro Silvio io l'ho già invitato più volte Barnard e lui ha rifiutato ovviamente quando ha rifiutato era ancora impegnato alla gabbia e quindi forse ha rifiutato anche per questo magari adesso accetterebbe però sono stanco di inseguire una persona che sicuramente è stato ed è un grande giornalista ma che purtroppo molto probabilmente in buona fede dice anche delle panzane enormi come quello della piena occupazione o del fatto che il debito pubblico non si possa disconoscere io purtroppo credo che sia inutile fare un confronto con la MMT dovremmo cercare in qualche modo di ricucire questo strappo purtroppo ma purtroppo quelli della MMT ritengono che chi la pensa come auriti è un povero matto loro ritengono che l'unica cosa giusta sia la MMT e purtroppo così non andiamo da nessuna parte continuiamo a dividerci in tanti rigagno anziché unirci però quello della piena occupazione e quello del debito pubblico che è un credito pubblico e quindi si deve pagare per forza sono due cose che proprio non riesco a perdonare agli MMTani caro Silvio comunque io sarei disposto anche a organizzare un incontro magari tra Paolo Barnard e un auritiano per far scoccare un po' di scintille prima e poi magari trovare un accordo ma non è facile purtroppo Giancarlo Tramacele ciao Salvo cosa ne pensi sul def e taglio tasse che dice Renzi su quello che si è detto ieri alla 7 di martedì che il Movimento 5 Stelle secondo i soldaggi è in crescita di consensi ma Giancarlo spero che tu mi stai prendendo per il culo con questa domanda ma se ho appena detto che per me la televisione dovrebbe morire dovremmo fare l'eutanasia tu pensi che a me interessi quello che viene detto alla 7 di martedì il Movimento 5 Stelle che cresce nei sondaggi ma anche se cresce nei sondaggi sempre 33 33 33 alla grande cioè voglio dire detta in modo così ruspante insomma un terzo un terzo un terzo poi non è 33 28 25 21 37 ma chi se ne sbatte insomma l'elettorato residuo cioè quello che ancora va a votare è diviso fra tre grandi poli il PD da una parte Salvini la Lega dall'altra il Movimento 5 Stelle dall'altra ancora questo è questo è l'obiettivo del sistema poi che uno cresca dell'1,7% che l'altro perda il 3% non importa l'importante per il sistema è che forse Italia che è evaporata purtroppo è stata rimpiazzata da Salvini il Movimento 5 Stelle ha deciso di non decollare non lo so se lo ha deciso comunque il risultato è che non ha decollato perché all'Europa si è suicidato praticamente proprio ha fatto veramente come come dicono che ha fatto il signor Lubitz praticamente si è schiantato sulle montagne con le puttanate dei sette punti no? vi ricordate Eurobond referendum e puttanate varie quindi si è schiantato perché secondo me all'Europa il Movimento 5 Stelle poteva arrivare anche al 40% se si avesse fatto una campagna elettorale bella a viso aperto dicendo le cose come stanno e invece ha preferito tirare il freno a mano e arrivare a dividersi l'elettorato 33-33-33 poi addirittura è stato punito la frenata è stata talmente brusca che addirittura è scesa al 21 ora dicono che prende l'1% wow che gioia l'1% ma chi se ne sbatte dell'1% in più quando tanto fa parte del sistema quindi per me il sistema va demolito alla base e per demolirlo alla base entrare in Parlamento è stato un errore non serve a un cazzo quindi tutti fuori da lì ormai che ci sono ne lasciano 10 per fare la guardia per evitare proprio che facciano delle cose gravi gravissime ma tanto le fanno lo stesso e gli altri 100 110 120 non so quanti ne sono rimasti fuori a parlare con la gente ma delle cose importanti però non delle cazzate come mafia capitale questa è la mia opinione personale naturalmente e poi denunciare le banche denunciare le banche migliaia e migliaia di denunce in tutte le procure d'Italia adottiamo una banca denunciandola non c'è altra soluzione questa è la mia opinione va bene cari amici io adesso vi saluto caspita altri 10 commenti come faccio a leggere tutti Pietro mette un link che riguarda Mauro Scardovelli verso le vette delle relazioni umane molto interessante spero di avere il tempo di andarmelo a guardare ti ringrazio Pietro l'unica cosa che fanno questi della MMT è offendere ed insultare gli auritiani chiedere a Daniele Pace sono d'accordo con Birillo Santigliana la politica purtroppo è un compromesso al ribasso sono convinto che il Movimento 5 Stelle o forse una speranza fa tutto ciò che dici per ottenere voti da un elettorato culturalmente molto basso Birillo un mutuo o un prestito ha toccato tutti essere truffati all'origine lo capisce chiunque Pietro la tv è uno strumento che se ben usato è estremamente potente ed educativo mancano i contenuti ma non possiamo demonizzare lo strumento perché viene utilizzato male io sono d'accordo Pietro sono d'accordissimo con te ma c'è il modo di impadronirsi della televisione ma purtroppo anche questo è un argomento su cui parlo a vuoto la gente non mi ascolta perché lo saprei io come andare in televisione appunto facendo la campagna denuncia una banca si potrebbe andare in televisione 24 ore al giorno però ovviamente questo è un argomento che invece i politici non vogliono affrontare e per questo io nel mio piccolo sto preparando con l'aiuto di alcuni amici un video un videino che spero che la rete faccia diventare virale in modo da arrivare in televisione chi lo sa magari ci arriviamo Fulvio dice salvo dal 1993 non ho tv mi sono trovato benissimo si vive meglio ma bisogna riconoscere che i cittadini non sono tutti come me pertanto considero giusto che i deputati 5 stelle vadano in tv credo che sia la maturazione riguardo certi argomenti delicati stanno maturando Birillo gli risponde siamo in due presente dal 2009 vabbè poi Pietro mi dice è una lettura superficiale quella che fai della televisione io la uso per osservare il nemico o valutare il livello di faziosità che viene anche mostrato dall'atteggiamento fisico dei giornalisti serve anche per capire la gente che non va in rete a quale disinformazione è sottoposta non sono d'accordo sul sottrarsi a questo compito del tutto e vabbè ma dopo che hai fatto questa grande analisi caro Pietro qual è il risultato e qual è la tua azione perché un'analisi è utile se poi viene utilizzata per arrivare a una sintesi e fare qualcosa perché altrimenti è un'analisi fine a se stessa allora se non troviamo il modo di usarla questa televisione meglio ignorarla io ce l'ho la ricetta secondo me per usare la televisione in modo corretto però purtroppo sono troppo piccolo per riuscire a essere ascoltato per riuscire a finire in televisione con questi argomenti ma non 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 dispero chissà che magari non riesco ad arrivarci in televisione ma per parlare delle cose che dico io però non di mafia capitale e delle altre cazzate di cui parlano loro questo è il punto fondamentale secondo me naturalmente va bene va bene va bene va bene va bene cari amici io a questo punto direi che vi saluto va bene io auguro a tutti voi una stupenda giornata continuate mi raccomando a condividere il link dell'intervista di ieri con Silvestro Montanaro che per me è stata veramente meravigliosa probabilmente una delle più belle interviste che abbia mai fatto in questi quasi tre anni di attività veramente fantastica Silvestro vabbè io lo sapevo è una persona straordinaria di una umanità di una come si può dire di una tenerezza fra l'altro parla di cose dure di cose bruttissime ma lo fa con una tenerezza e con un amore che sono veramente incomiabili quindi vi prego condividete il video di ieri relativa all'intervista con Silvestro Montanaro fatelo vedere ai vostri amici ai vostri parenti perché quella sì secondo me ieri grazie grazie a a questo a questa a questa intervista secondo me ieri sera grazie a Silvestro Montanaro abbiamo veramente fatto cultura in questo piccolo canale e grazie a voi potremo condividere questa cultura con tanti altri va bene Pietro mi risponde la mia consapevolezza è il risultato dell'analisi va bene ok d'accordo però visto che ormai hai la consapevolezza hai fatto l'analisi è inutile perdere tempo a guardare ancora la televisione dedica ad altre attività ma questa è la mia opinione personale il mio suggerimento affettuoso naturalmente tu sei libero di continuare ad analizzare all'infinito caro Pietro va bene cari amici un abbraccio a tutti voi ci vediamo con il mi scappa la diretta di domani veramente un abbraccio forte un augurio di buona giornata a tutti voi e grazie per essere stati qui in mia compagnia ciao a tutti scappa scappa salvo 5.0 scappa 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 salvo 5.0 scappa scappa la diretta con se non mi andrà la diretta c'è la diretta c'è la diretta